Ti ragazzi e questo è un video per informarvi che riapro il canale visto che comunque avevo smesso con i video per aprirne un secondo come avevo scritto già nella bacheca del canale e volevo informarvi che comunque riaprirò il canale e su questo canale se vorrete porterò Battlefield 4, Resident Evil Warfare, FIFA 15 e se vorrete ma se vorrete anche GTA 5 a volte però visto che comunque tra poco escono anche i colpi in banca e che dire sono stato deciso di chiudere il canale perché comunque non vedo più un grande coinvolgimento da parte vostra nei miei video allora ho detto vabbè non piacerà non piace più comunque come come mi esprimo nei video come porti i video allora ho deciso di chiudere il canale e di aprire quel secondo canale giusto per provare cose per provare comunque diciamo a ripartire da capo ecco infatti comunque se sarete andati su quel canale avete visto che ho portato avanti qualche serie insieme a dei miei amici Ganger e Fred il primo mio amico che mi ha aiutato a fare dei video si chiama così il suo canale se volete infatti passateci passate anche per il canale di Wild2TV visto comunque anche lui è un mio secondo amico se volete passateci anche lui fa video e niente ragazzi vabbè questo video era giusto un piccolo vlog per informarvi che riapro il canale fatemi sapere nei commenti se vi vanno bene anzi che porti questi giochi forse prenderò anche MotoGP 2014 per farci una piccola serie insieme a Ganger e niente ragazzi io vi auguro una buona serata e bella grazie grazie grazie